Il santuario di Mamma Nostra, la centrale idroelettrica, il sito termale Bagni di Guida, il monastero arabo bizantino normanno di San Giovanni Teristis e il mulino Do Furnu con la contigua ferriera Fiera Mosca a Bivongi ed ancora la fonderia borbonica di Ferdinandea e il parco naturale regionale delle serre a stilo e i percorsi gagginiani da Spromonte a Bagaladi. Sono queste le mete individuate in provincia di Reggio per le giornate FAI d'autunno nell'ambito della campagna di raccolta fondi Ricordiamoci di Salvare l'Italia che il Fondo per l'Ambiente Italiano organizza nel mese di ottobre dedicata al patrimonio culturale e paeseggistico del nostro paese animato e promosso dai gruppi FAI giovani con la partecipazione di tutte le delegazioni, i gruppi FAI, i gruppi FAI Ponte tra culture diffuse attivi in tutta Italia. Le giornate FAI, 700 proposte in 350 città italiane giunte quest'anno all'undicesima edizione si svolgeranno sabato 15 e domenica 16 ottobre e nascono quest'anno nel segno della nuova collaborazione tra FAI con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia ANCI nell'ambito di un accordo recentemente firmato volto a sviluppare e diffondere buone pratiche e a sensibilizzare i comuni alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio. Ai partecipanti sarà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano. L'elenco completo dei luoghi visitabili in Calabria con giorni e orari di apertura e modalità di partecipazione sul sito fondoambiente.it Grazie a tutti.